da Israele si ha lodato a Shem mille volte per difenderci per proteggerci per tutti quelli i milioni di ebrei in Israele che non sono stati colpiti e ricordiamo però quelli che si sono stati colpiti e feriti ecco grazie grazie carissima tutti i feriti malati di Amistraele e purtroppo il bimbo la donna il e quelli che si hanno pagato con la vita questo terribile attacco amen oggi concludiamo il primo dei cinque libri del Tanya il Likutea Marim oggi facciamo Khazak Khazak Benit Khazek e quanto veramente Mat'im in questa giornata così importante allora riprendiamo l'ultima parte appunto delle della del del Likutea Marim l'ultima parte del l'ultimo che è cinquantatré se siete con me e diceva anche con noi no ma non sto seguendo io sono stanca io ascolta 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 va benissimo non ti preoccupare io sono contenta che sei con noi poi se in più riesci a seguire sul testo no perché vuol dire che mi devo non ti non ti scusare va benissimo così ok no perché perché ti ricordava che di solito mi dici che rigassiamo che allora è per quello diceva non per altro allora allora dunque vese se amara inucca dunque nello Zohar è riportato per essere precisi nel capitolo 35 che eh oddio c'ho un gatto vicino sono un po' stressata vabbè ok cosa dice lo Zohar din hura ila ha de adlik al reshe ish hinta it starich nemish cioè che la luce suprema che illumina sul capo di ogni ebreo che è la che è la che è la necessità di olio questo è quello che ci dice lo Zohar di Ravishimor bario hai per us Che spiegazione eh eh l'itla eh l'itla tl'haver che ho ma ne crash ha meno mischat codeche cioè abbiamo detto che questa questa luce suprema che appunto illumina il capo di ogni ebreo ha bisogno dell'olio ma di quale olio parliamo visto che stiamo parlando di concetti spirituali spiritualmente la saggezza è paragonata all'olio infatti come è riportato dunque sappiamo che c'è l'olio per ungere il sacro no con quale si ungevano i con il quale si ungevano i re e come è chiamato questo olio dunque l'unzione sacra come è anche riportato nello Zor in un avdin dunque cos'è che riportano nello Zor che questo si chi mi parla qualcuno voleva dire qualcosa ho sentito un Sara mi sembrava ero bloccata ero bloccata ragazze no no io no per com'è no e Rifka anche ieri credo forse un problema di connessione Rifka un problema di internet anche io ieri anche a me ieri cattiva è vero adesso adesso che sono in Israele in più e sono le israeliane va beh allora dunque abbiamo detto che lo Zor riporta che questo shemen è la chokhmà e la luce della che è sul capo di un ebreo ha bisogno di olio cioè di rivestirsi nella chokhmà che la chokhmà è il rivestimento e l'utensile della luce della chokhmà e conclude lo Zor e dicevi in un ovadintavin e e quando si parla di olio di chokhmà e sono in realtà i massim tovin ma se a mitzvot cioè si riferisce alle mitzvot che sono le 613 mitzvot e però c'è una domanda dunque che rapporto c'è tra le mitzvot e il shemen abbiamo detto da un lato abbiamo il shemen che rappresenta la chokhmà la saggezza suprema perché le 613 mitzvot vengono attratte derivano dalla chokhmà dalla saggezza di Hashem e perché non basterebbe teoricamente solo la Torah che è il shemen che è la chokhmà perché noi attiriamo le mitzvot attiriamo le mitzvot dalla facendo le mitzvot attiriamo questo dall'alto verso il basso dall'alto bravissima e come qui bravissima e qui entra nel dettaglio dice perché per afferrare dunque appunto questa luce della chokhmà nello stoppino che è lo stoppino cos'è lo stoppino è l'anima vitale che abbiamo nel corpo bravissima che è paragonata a nikret ptilal derech mashal dunque si dà l'esempio appunto dello stoppino che è l'anima vitale dunque lo stoppino è l'anima vitale che per essere alimentato dalla luce appunto di Orensov ha bisogno del shemen della chokhmà e infatti dice dunque come in una candela no materiale la luce illumina tramite il bruciarsi dello stoppino che appunto si trasforma in fuoco così anche la luce della chokhmà nello stesso modo la luce della chokhmà si trova ecco su nella nell'anima divina e noi sappiamo la famosa che la lume di Hashem la candela di Hashem è l'anima dell'uomo attraverso l'annullamento dell'anima animale e non solo annullarla ma soprattutto la sua trasformazione dal buio alla luce dal buio della chelipà vi ricordate tant'altro parlato della chelipà alla luce della chelusha umim rirulem tika e dal dall'amarezza alla dolcezza bezzadikim ovviamente chi noi non sadikim diciamo possiamo e dobbiamo fare il lavoro di attcaffia vuol dire abbiamo voglia di fare una vera ci tratteniamo attcaffia e non la facciamo non abbiamo voglia di fare una mitzvah una tfilah una brachà tratteniamo e sì facciamo la brachà i tzadikim invece hanno una forza molto più elevata di noi che è quella di addirittura trasformare il male stesso in bene e questo è dato ai tzadikim come se vi ricordate l'avamo studiato nel capitolo 10 perché loro trasformano l'essenza stessa dell'anima animale e gli attributi le midot e l'inteletto da male a bene c'è proprio la trasformazione stessa dunque se non altro anche tramite l'annullamento la distruzione dei suoi rivestimenti che come sappiamo dell'anima sono il pensiero la parola e l'azione che prima erano i rivestimenti dell'anima animale che e si trasformano dal buio delle che li pot alla luce di benedetto sia che è rivestito e unito nel pensiero parola azione delle 613 mitzvot va benonim nei benonim e come abbiamo detto il benoni è quello che non ha mai fatto in vita sua una vera un peccato né a livello di pensiero parola azione è quello che tutti noi dobbiamo aspirare e tzadì come abbiamo detto ci vuole avevamo spiegato che ci vuole una nascima unica nel suo genere quella è un dono di hashem e chi ce l'ha allora un tzadì se no non puoi essere tzadì invece benoni vuol dire che non non fare nessuna vera nessun peccato a nessun livello di pensiero parola azione questo è dato a tutti come l'avamo poi avevamo studiato a suo tempo nel capitolo 12 perché e cosa avevamo studiato che dal benoni l'essenza del male non si trasforma si viene soggiogata soffocata hanno sottomessa ma non trasformata la trasformazione dell'essenza del male in bene questo è dato sulle attraverso appunto il lavoro del tzadikim nella trasformazione dell'anima minimale che a sua volta deriva dalla clipa di noga dal buio alla luce si arriva all'elevazione delle acque femminili allora cos'erano le acque femminili perché si ricorda quello che rappresenta il ricevere la donna rappresenta quella che accoglie no come infatti anche nella procreazione la donna è il cli e poi lei lo sviluppa nove mesi nel grembo così la donna rappresenta la ricezione cioè il ri è un è un cli come ben detto dunque che riceve e accoglie dunque tramite la trasformazione appunto dell'anima animale dal buio alla luce si arriva all'elevazione delle acque femminili cioè alla al risveglio del servizio divino del ricevere di riportare la luce della città dunque non solo il sceme non solo l'olio cioè che che rappresenta la torà ma anche ma riporta la luce della città che è che è la rivelazione della luce infinita di hashem sulla sua anima divina che si trova nell'intelletto che è nella sua testa e infatti cosa abbiamo detto prima abbiamo parlato e del che del della che si posa sul capo di ogni ebreo e quando si dice capo non a casa si dice il capo perché nel capo della persona nella testa via l'intelletto tutte le 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 Chi era? Iacov? No, non ricordo. Chi è che si è disteso e aveva delle pietre intorno alla testa? Sì, Iacov, bravissima, Iacov. E' paragonabile a questa cosa che stai dicendo? Bellissimo l'esempio che hai fatto, sì, sì. Perché Iacov era sdraiato quando aveva poi protetto la testa. C'è come il corpo, se uno ti mangia il cuore, muori pure, perché è solo la testa. Perché? E poi la testa che era allo stesso livello del... Beh, ci sono bellissime spiegazioni, non entrambi in tutti, ma il punto, e volevo ricordare Ruth, fantastico, che ha protetto la testa, perché la testa appunto, come appunto ce lo spiega lo Zor, la Chochmah, dunque la Torah, i Mohin, le capacità intellettive, il pensiero, la parola, e tutto parte dal pensiero alla parola. Uno non può parlare se non ha prima pensato, in modo cosciente o incosciente, ma c'è prima il pensiero, è l'origine di tutto, poi la parola, e da lì si arriva anche all'azione. Dunque il pensiero, la Chochmah, l'intelletto, la facoltà di capire, di percepire, e più noi capiamo la Torah, più noi capiamo le Mitzvot, più ci allontaniamo da tutto quello che è negativo. Dunque la fonte di tutto è nel capo. Grazie Ruth. Possiamo capire bene quello che è scritto nel Qumash Devarim, l'ultimo del Qumashim, capitolo quattro, passuk ventiquattro, che asceme lo kekha eshoch lahu, che asceme tuo Dio è un Dio, e es fuoco, che è un fuoco che consuma. In che senso che asceme è un fuoco che consuma? Allora adesso che abbiamo parlato del fuoco, adesso capiamo. Dunque come il fuoco non può esistere, cioè afferrarsi a qualcosa, se non tramite qualcosa che brucia, si brucia nel fuoco, come per esempio appunto lo stoppino. Così la luce della Shekinah illumina nello stesso modo, di modo che asceme sia tuo Dio, Dio tuo personale, mio di Sara, mio di Hayamushka, mio di Ruth, ognuna di noi, una cosa sentita, personale, che sulla mia anima, asceme, illumina la mia anima. E appunto il fatto che lui è shokla, che è questo fuoco ardente, vuol dire che brucia questo stoppino, e chi ha lo stoppino, abbiamo detto, è l'anima animale, l'anima vitale, e questo si trasforma in fuoco, lo stoppino che si trasforma in fuoco, come è spiegato poi anche altrove, che appunto la sottomissione dell'ebreo, che sottomette tutto se stesso a Kadosh Barofu, e la sua essenza, come qualcosa che si brucia, si brucia, non rimane più niente, è bruciato, dunque perde la sua esistenza a sé, questo si chiama, e questo riporta, la luce della Shekinah, vuol dire, come fare in modo che la Shekinah, la presenza di vita, si possa posare su di noi, noi individuos, e micro, macro, noi ebrei, noi popolo da Israele, in tutto il mondo, ma partendo da noi stessi, tramite appunto la Chokmah di Hashem, che è la Torah, e le Mitzvot che ci connettono con Hashem, dunque l'olio, lo stoppino e la luce. Chazak, Chazak, benit Chazak, Nishlam, Khele, Shon, Shrata, Shem, Barak, Vita, Barak, Dayutet, Kisle, ha cominciato il Tanya, e l'Ikutea Marim, oggi abbiamo concluso l'Ikutea Marim, il primo libro dei cinque libri del Tanya, Chazak, Chazak, c'è una domandina in merito, noi però in realtà, mentre lo stoppino c'ha una fine, il nostro stoppino non ha una fine, la nefesh abamit. Siamo infiniti, perché... Ma non parliamo della nefesh elokit. No, io parlo di quello che noi, inteso come stoppino, ciò che noi possiamo, io, la nostra anima, quello che può dare. L'anima, la vitale, la abamit, è finita, l'elokit è infinita. Certo, l'elokit, certo. Dunque, l'elokit è finita. Il nostro stoppino, quello che si accende. Arde in continuo, infatti, Miriam Batrachel, che fisicamente non è più con noi, ma a parte che la porto sempre con me, ieri è incredibile. Ero seduta da un'amica qui a Farcabad, che sono giorni che volevo andarla a trovare, una che era una mia ex, vicina di casa, una santa, una sadica, lei, suo marito, meraviglia di persone. Ero seduta nel suo giardino e dicevo un dvartorà, e ogni dvartorà che dico ultimamente, giustamente, penso a mia sorella, dico le luni shmà, come dico, no, tenetevi forte, lei sul giardino confina con i vicini, no? Dunque vedi i vicini quando entrano in casa. Chi vedo arrivare? Mio coniato, marito di mia sorella? No, fortissima. Ho detto Shlomo, si chiama Shlomo, Rav Shlomo Bentolino. Dico Shlomo, sto parlando di Miriam, lei non è stata, e mi, parca banne, cioè, cazzesco. Dunque, sì, per dire, le anime, anche se il corpo è finito, l'anima animale ha un fine, ma non l'anima di lui. Quella è eterna, quella è eterna, si, dunque, le luniche mat, Miriam, Batrachel, e Yoshua. Chumash, Bamidbar, Parashat, Bamidbar, capitolo, Amen, grazie carissima, capitolo tre, Bazzuc, quaranta. e poi Rashi ce lo spiega Francesca. Correte troppo, aspettate, quindi, che pagina siamo? 565. 5. 565. Grazie, Musca. E vai, lanciati, tuffati di testa. L'Eterno, disse a Mosè, Conta ogni maschio primogenito tra i figli di Israele, da quando il bambino non è più considerato in pericolo di morte, cioè dall'età di un mese in su, e fa il conto dei loro nomi. Sì, però era incluso Rashi nel passucchio della traduzione, vero Francesca? No, perché chiedevo prima un'aiuto a Francesca, non avendo con me nessuna traduzione italiana, volevo il termine esatto. Allora, è il termine che cercavo l'altro giorno, dunque dal momento che non ha più, è uscito dal safek, dunque dal dubbio, se è un nefel, dunque un aborto, vuol dire un bambino nato, nato non vivo, ecco il termine che cercavo ieri, nefalino. Vai 41, 42, poi anzi fai anche 43, e poi 44, 45, 46 vai Rachel, e poi sentiremo Ruth, e Francesca, e Bezrat Hashem tutte. Tu prenderai, riserverai, i leviti per me, che sono l'Eterno, al posto di ogni primogenito dei figli di Israele, e gli animali dei leviti, al posto di ogni primogenito, tra gli animali dei figli di Israele. Mosè contò tutti i primogeniti dei figli di Israele, così come li aveva ordinato l'Eterno. Tutti i primogeniti maschi, dall'età di un mese in su, secondo il loro censimento, contando i nomi, erano 22,273. Grazie, e non devo adesso spiegare l'importanza dell'articolazione verbale, dico bene, l'abbiamo ben studiato. Allora, Rachael e Chiara, e fai 44, 45, poi faccio Ruth e Francesca, perché abbiamo pochi psuchim oggi. Ti tocca? A Shem parlò a Mosè dicendo, prendi i leviti al posto di tutti i primogeniti dei figli di Israele, e il bestiame ovino dei leviti al posto di tutto il loro bestiame impuro, vale a dire al posto dei primi nati dagli asini appartenenti ai figli di Israele. Adesso sono io a porre la domanda però, ti fermo un attimo. Come mai i levini sono stati presi al posto dei Beforot? Vediamo chi segue assiduamente e mi dà la risposta, l'abbiamo già studiato, ve l'avevo spiegato. Perché loro non avevano partecipato al peccato del vitello d'oro, e fino a quel momento... Vi ricordate ieri che avevo scritto, diceva c'è e non c'è? E anche oggi, come vedete, Non c'è ma c'è, era piuttosto, non c'è ma c'è. No, non leggo, no, non guardo, è sì invece con noi, fantastica. Sì, certo. Allora, concludi, Rachel? I leviti apparterranno a me, io sono Hashem. Grazie, Rachel. Francesca, ci legge questo Rashi, 45, solo Rashi. Sì, arrivo, arrivo, 45, ma in italiano, immagino. Solo in italiano, Rashi 45. Sì, arrivo, 41, 42, perché prendo il segno. Allora, li colpirno, Iaktum, è come in, lo colpì, No, 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 45, capitolo 3. Ah, sì. Mi sa che sei andata a un altro capitolo. Sì, ho perso il segno, ho perso il segno. Vai, vai. Allora, dovete avere un attimo di pazienza, perché io qui, questo libro si è chiuso, e allora, capitolo 3, eccolo, eccolo, 45. animali dei divini. Sì, significa quanto ai primogeniti che tra loro necessitavano di essere riscattati, cioè per i 273 che tra di loro erano in eccesso, essendo più del numero dei leviti, tu prenderai da loro 5 cicli a testa. Così avviene... Stai facendo Rashi 46 per chi non se ne fosse accorto. Stai facendo Rashi 46, non 45. Non c'è 45, non ce l'ho. Come non ce l'hai? Vabbè. Allora, passiamo a 46. Ah, ok. Non l'ho tradotto, Sara, io sul mio libro non l'ho tradotto. Ogni tanto si saltano, c'è qualche errore. Allora, no, figurati. Vuol dire che non hanno riscattato, ve lo dico io adesso, traduzione così simultanea, non hanno riscattato gli animali delle viim, i primogeniti degli animali puri dei ben israeli, ma solo i Peter Hamor degli asini e Veseqad dei ben levi è stato riscattato così come anche i pittre Hamorim dei ben israeli. Dunque, devi sapere che ha contato quelli che erano diciamo in più nell'uomo ma non ha contatto quelli che erano in più dell'animale perché adesso come ci spiegherà adesso Francesca che stava appunto spiegando adesso ci saranno in più di quelli riscattati tra gli uomini ma come c'erano tra gli uomini c'erano anche gli animali ma dagli animali non sono stati contati quelli in più e dalle persone sì. Ok, adesso leggilo si capirà meglio 46 e per quanto riguarda i 273 primogeniti dei figli di Israele in eccesso rispetto al numero delle viti che anch'essi necessitano di riscatto prenderai da loro cinque scalini per ciascuno userai a questo scopo il sacco shekel ogni shekel era del peso di 20 gravi. Ok, grazie che hai fatto anche Rashi e i bambini i 372 maottifimi all'albini in bambini l'israele Rashi e i bambini i bambini e i bambini e i bambini che hai e i bambini ti dice il perché è stato scelto questo questa somma no di perché è la stessa con la quale Yosef fu a suo tempo venduto dai fratelli 47 vai ancora Francesca prenderai da loro cinque scalini per ciascuno userai a questo scopo il sacco shekel ogni shekel era del peso di 20 gravi consegnerai il denaro consegnerai il denaro alla ronna ai suoi figli come riscatto per coloro che sono in eccesso rispetto al numero delle viti Moshe ha preso il denaro facciamo 47 48 un attimo sentiamo due tre psuchim anche Ruth così sentiamo anche Ruth grazie mille Francesca vai 49 Moshe prese il denaro del riscatto dai 263 primogeniti eccedenti rispetto a quelli riscattati direttamente dai levit vai car Moshe che se fa pidio metta ad fim al pdui al vim ad vim all'ottan c'è padua vim begu fan e ultimo passuk vai Ruth egli prese il denaro dei primogeniti dei figli di israele dopo averli scelti a sorte 1365 sagri shekel met bechor ben israel la cachet a kassef hamisha ve shishim mushlo shmeot va elef besheke la kodesh vediamo cosa rashi hamisha ve shim shmeot va alef kach schum a cheshbon hamisha shkalim ala kode adesso ci fa un calcolo matematico abbiamo detto che per ognuno ci voleva cinque shkalim no a persona a testa le matah in bechorot dunque duecento per cinque abbiamo mille giusto elef shekel elef mille le shivim bechorot poi però erano duecentosettanta dunque i settanta rimanenti 350 shekel le shalosh bechorot hamisha sar shekel e quindici per i tre bechorot che adesso di fatto come posso fare che si posto la domanda moshera ben bechor che omar lo ten chames e shkalim un bechor a cui dirò dammi cinque shkalim io marli mi dirà io sono parte dei riscattati dei levi me ha cosa ha fatto e vi sire me le ftakim ha portato 22.000 bigliettini e scrisse su di loro ben levi figlio di levi poi 273 biglietti katavalem sul quale ha scritto 5 shekel blalan un tanan becalpì dunque le ha meschiati le ha messi nel nel recipiente per quello che si tira a sorte e amarla ha detto loro che ognuno prenda un petek e a sorte e così vedremo chi è veramente delle levi e chi è di quelli riscattati e questo soldi che ha ricevuto appunto dai riscattati li ha dati secondo la parola di Hashem come Hashem aveva comandato e voilà ne manca uno ne manca uno l'ho letto l'ho letto l'ho tradotto da sola ah ok coming on e vai ragazze allora siamo il tre del mese di di Sivan giusto dunque siamo a capitolo di Tehillim ci siete 18 la vita che Hashem ci ha veramente dato la vita e ci protegge tutti dalla nostra vita in Israele fuori da Israele tutto Israele l'am 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 natsah l'avet adonai l'adavid asher d'iber adonai et d'ivri hashira azot guardate 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 ma ma l'am 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 parla del cielo mi sono ricordata di tutti di tutti gli aerei di bombardamento di questa notte di stamattina 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Lo so, ma io non sono abituata. Aiuto. Adesso tutti insieme in coro, quelli che sono e le refuace di tutti i malati di Israele, insieme in coro leggiamo il perec 20. Grazie a tutti. 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 121. Grazie a tutti. Minuto per minuto. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.